Cristian Marchetti, titolare dello storico negozio Marchetti Calzature, è il nuovo presidente della consulta ASCOM di Belluno, l'organo territoriale di Confcommercio, chiamato a rapportarsi con gli associati, la stessa associazione di categoria e le istituzioni locali. Già presidente fra il 2016 e il 2019 del consorzio Belluno Centro Storico e già vice presidente della consulta, avrà ora il compito di rappresentarla. Grato della fiducia che mi hanno dato e ringrazio Angela De Min, che è stata la presidente precedente, ha fatto un lavoro eccellente con l'amministrazione comunale e spero di poter portare avanti questo lavoro di continuità e soprattutto di volontà di fare qualcosa di concreto in centro storico e soprattutto anche nel comune di Belluno. Chiare fin da subito le priorità per dare nuova linfa al centro cittadino? Porre un attimo luce un po' di più sul centro storico che sta perdendo un attimo di attrattività e ci deve essere comunque una volontà di tornare a vivere la città e soprattutto di trovare dei luoghi comuni dove poter tornare ad avere un aspetto di volontà di trovare la condivisione e la volontà di ritrovarsi in centro. Consulta che ha dunque un ruolo prezioso in un territorio che guarda certamente alla sfida delle Olimpiadi 2026, ma anche alla quotidianità del terziario bellunese. Va ricordato infatti che i negozi di montagna e le piccole botteghe di paese svolgono un vero e proprio ruolo sociale per il contesto montano. È una città senza luci accese nelle vetrine, è una città o un paese, è una pallata morta. Noi reclamiamo una politica a favore del piccolo commercio nelle valli, soprattutto nella montagna, proprio per il ruolo sociale che questo ha, economico, occupazionale, ma la socialità passa anche attraverso le vetrine.